La prima baciata è appannaggio di pietre. 8 punti per le pietre e 8 punti per Francaresi, non esattamente la più bella bocciata del mondo ma, una volta segnati come si vuol dire, non si vede niente. La prima baciata è appannaggio di pietre. Una biglia 10 a 8 per Francaresi e Crescenti alla bocciata Francaresi. Fa 10 fangaresi, forse 12? No, 10 e due colori 12, quindi diventano 20. 20 a 8 per Francaresi e Crescenti. Mi piace sbagliare il calcio, però forse fa il punto. Si. Si. Grazie. 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 Finalmente serve le pietrine fa tre, si porta a quindici, venti a quindici. Mi spinta il punto grande. Ma è fatto. Si sente semente quasi a sponda. Una biglia. Fangaresi, ventidue a quindici. Boccia Roberto Fangaresi. E fa due e si porta a ventiquattro. Ventiquattro, ventiquattro, quindici. Grazie. 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 un fr poppedore seguito e niente Iglesi. Questa è una discreta biglia. 28,23 per frangaresi criscenti. grazie tiro sbagliato adesso il fangaretti deve tamponare tiro sbagliato 28 27 boccia di pietri grazie 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 Crescenti, Fangarezzi, De Pietri, Principe, Crescenti con qualche miglia un po' approssimativa ha ricominciato a giocare anche se giocate molto semplici ma comunque efficaci nel senso che conta molto sulla capacità realizzativa del proprio compagno che è un ottimo gocciatore come non si può dire diversamente di De Pietri quindi insomma qui in Filoran sono stato un po' il di sotto di quanto ho fatto vedere in precedenza passa molto vicino a Castello non è male un bel tiro adesso non ha un compito improponibile Crescenti ne fa 4 e si porta 34 alla bocciata Fangarezzi siamo già a metà partita questi vanno veloci stavolta prenderli in pallo e non fa nulla come non detto per la Pietri che vanno veloci di De Pietri spingi il pallino sponda ma la sua rimane staccata per aria che senti qua dietro il pallino questa è una buona biglia davvero le Pietri vanno spinta per fare il punto facile hanno il vantaggio di biglia del gioco per aria secondo me è rischiosissimo infatti credo che adesso Fangarezzi tenti di portare pallino nel quadrino del quadrino inferiore anche se non fa birilli comunque evita correre il pericolo di di far di beccarsi il colore principe sempre non 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 Grazie. Grazie. Siamo a 49,34. Grazie. Sbaglio a tiro crescenti, 49,34. Bella la giocata di Principe, adesso Fangaresi deve tamponare perché qui ci sono dei rischi alti nel senso che se non si mette bene… Il Principe va con della spinta, ne vuole fare sei, ne fa uno con fortuna. Però insomma all'inizio della partita Fangaresi ha fatto una bicicletta, ne ha fatti otto, quindi non è che posso lamentarsi più di tanto. 51,34 da Pietri alla Bucciata. Sessantuno, 34. No, questa non va e quindi credo che a questo punto, certo anche in semifinale aveva un vantaggio enorme, poi alla fine Simoni e Rimondini sono arrivati al 69 e debbono anche recriminare perché perché a 66 hanno fatto un calcio posato in mezzo e lo metto di sotto. grazie. Grazie. Grazie.